buongiorno news oggi 5 aprile san vincenzo ferreri ricorre oggi la giornata internazionale delle coscienze istituita dall'assemblea generale delle nazioni unite con lo scopo di sensibilizzare e creare condizioni di stabilità benessere e relazioni pacifiche basate sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza sesso lingua religione l'assemblea generale ha invitato tutti gli stati membri le organizzazioni del sistema delle nazioni unite e altre organizzazioni internazionali e regionali nonché settore privato la società civile comprese le organizzazioni non governative e gli individui a costruire la cultura della pace con amore e coscienza in conformità con la cultura delle loro comunità locali nazionali e regionali anche attraverso un'istruzione di qualità e attività di sensibilizzazione del pubblico